Nei giorni scorsi i carabinieri della compagnia di Vallo della Lucania hanno eseguito nei confronti di un amministratore comunale del comune di Casalbilino, il sindaco Silvia Pisapia, un'ordinanza applicativa della misura cautelare personale del divieto di dimora nel comune di Casalbilino. Il provvedimento è stato emesso dal Tribunale ordinario di Vallo della Lucania al termine di una lunga e complessa attività di indagine svolta dall'arma dei carabinieri sotto la direzione della procura vallese che ha consentito di appurare come l'amministratore, andando al di là dei compiti istituzionali connessi alla sua carica, si sia inserito in provvedimenti non di sua competenza, gestendoli a proprio piacimento. Una macchina burocratica malsana, guidata e strumentalizzata con astuzia, emerge dalle indagini attraverso legami con collaboratori e titolari di cooperative e aggiudicatrici di appalti pubblici che viene finalmente smascherata partendo da alcune segnalazioni relative a presunte illegittimità intercorse nella procedura amministrativa relativa alla realizzazione dell'area piano insediamento produttivo in località Valloscalo. Oltre al sindaco Pisapia sono 14 le persone indagate, l'ex sindaco di Casalvelino Domenico Giordano, l'ex presidente del CONSAC Luigi Rispoli, l'imprenditore Domenico Pinto, il dipendente comunale Angelo Gregorio e Giuseppe Schiavo responsabile della polizia municipale.